Non li ho rubati, sia chiaro. Coniugi cinquantenni trovati morti in una botte habitazione alle porte di Milano, besate, secondo gli investigatori sarebbe un omicidio suicidio, l'uomo avrebbe prima strangolato la moglie e poi si sarebbe imbiccato, uno sfratto esecutivo imminente, una condizione economica disperata, problemi di alcol per lui, disagio psichico per lei. Sempre più fragili le unioni legali, i matrimonti in Italia, nel 2012 secondo lista, tutti i dati disponibili, i casi di separazione di un orzio hanno continuato, in ascesa, che ora si registra da 15 anni, la introduzione dell'unione coniugale riguarda sempre più anche i matrimoni durante le coppie viste, le separazioni sono più frequenti al nord, ma gli incrementi maggiori arrivano dal sud. D'accordo europea dei diritti della comunità, i dati confermati e dovranno... Grazie. 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 Grazie a tutti. Ii dam in 85 la ora asa usurel 6.15 in Romania 9.15 aici in Italia Am bagat in rampa la ora 17 D'abia acum a terminat de incarcat Poate ajungem maine seara la Poissy Dupa ce mai fac maine inca un program Ne mai auzim Avem pe colegul in fata de la Torello, e roman Mi-am facut mai devreme cu semnalizarele in semna multumire ca s-a bagat Plus ca atunci cand m-a depasit, m-a si salutat Unii sunt domni, altii nu mai vor sa mai recunosca ca s-a roman Uite, acum cred ca iara il depasim, dar eu merg in 85 ce sa mai... Acolo e ceva in fata Acolo e ceva in fata Lucrari Ne bagam la loc Masina lui fuge mai tare Aici ne paraseste colegii O salutam si noi apusim Aici ne paraseste colegii Iniciativa franco-germanna se baga pe trei mecanisme principale Expuse de ministrii muncii, Michel Satan si Ursula von der Leyen Este vorba in primul rand despre facilitarea accessului la credit Pentru lucruri de mici si mijlocii Unde se creeaza cele mai multe locuri de munca pentru tine In A2L arun va fi favorizata pe care tira professionale in alternanza Per iua de le de studio voce urmante Un daspe dinaire 51 50,000 euro Regolamento disponibile sul proprio bietro Cercan su un soluzioni di mobilità per la tua azienda Car server e la società italiana Di lo evito termine, confia le posizioni nette e persone vige e reali Grazie a tutti. 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 Tunelul Mont Blanc. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.